Musica Eccoci quest'oggi a Pedavena, siamo venuti a trovare il sindaco Nicola Castellaz per parlare del suo comune. Buongiorno a tutti. Partiamo subito da un tema su cui avete investito negli ultimi anni, ovvero le opere anche per coinvolgere o comunque dare una mano ai giovani. Certo, sono opere a mio avviso importanti politicamente parlando perché il fatto di dare spazi esterni alle nuove generazioni di qualsiasi fascia di età è un aspetto importante sia per loro, ovviamente perché lì trovano comunità e aggregazione soprattutto in questo periodo di pandemia, ma anche per le famiglie che trovano uno spazio dove poter accompagnare, portare i propri bambini per divertirsi e per stare assieme appunto. Abbiamo iniziato con una semplice sistemazione, non importante da un punto di vista economico, ma indubbiamente importante per la sua frizione dei ragazzi, che è un campo da tennis libero in località di Facendo, dove abbiamo rimesso a nuovo la rete e anche le righe del campo stesso. Poi un lavoro molto importante e che ha occupato il 2021 e che sta avendo molti risultati è quello della sega bassa, è un lavoro di riqualificazione di tutta l'area sportiva, quindi abbiamo sistemato a nuovo un campo da pallacanestro e un campo da pallavolo con gli attivi spogliatoi e anche dato in gestione l'area al pedale feltrino per gli allenamenti con le biciclette. Ecco, quest'area tra l'altro l'abbiamo data in convenzione anche all'istituto comprensivo, qualora gli insegnanti di ginnastica vogliano portare i ragazzi all'esterno, possono arrivare in questa area sportiva che è molto vicina rispetto all'istituto comprensivo e lì poter fare esercizi e allenamenti con i ragazzi. Un altro intervento che abbiamo appena ultimato è la sistemazione del nuovo piano palestra, l'abbiamo rifatto completamente perché era adattato, è un piano palestra che anche qui viene utilizzato dai nostri studenti ma anche dalle associazioni che utilizzano poi la palestra nel periodo fuori dalla scuola. Abbiamo sistemato l'area esterna della scuola materna, anche qui per i bambini piccoli, è un lavoro che sta svolgendo a termine in questi mesi, ma che lì possono trovare sia un anfiteatro naturale dove magari possono fare le recite di fine anno insieme ai genitori e anche i nuovi giochi esterni. L'intervento che abbiamo appena ultimato poi, che riguarda poi la fascia di bambini più piccoli, riguarda i due nuovi parchi gioco che abbiamo fatto, in particolare abbiamo riadattato, i riadeguati erano già esistenti ma anche questi vetusti avevano bisogno di una riqualificazione completa, di cui volevo ringraziare anche del contributo economico la CSM che è una società che è in gestione la centrale di Val di Faunt. Si tratta dei parchi gioco di Via Trieste, quello vicino alla chiesa, e il parco gioco di Via Volta. Tra l'altro nel parco gioco di Via Volta abbiamo coinvolto anche una ragazza che vorrei ringraziare, Costanza Zaetta, la quale studia belle arti a Venezia e andrà a sistemare un manufatto di distribuzione, ovviamente condiviso il progetto anche con la proprietà, dove andrà a sistemarlo, a riqualificarlo con dei dipinti che secondo me sono molto importanti. Abbiamo pensato però anche agli aspetti legati alla cultura con i giovani, perché al di là dei eventi che vengono ripetuti ogni anno dalla nostra amministrazione, che sono la importante consegna della Costituzione ai neo-diciottenni, abbiamo istituito anche un fondo per i nuovi nati, i nati nel 2021. Non sono cifre importanti ma sono cifre che danno un significato di vicinanza alle famiglie, e soprattutto il nostro obiettivo è quello di far sì che la popolazione possa far famiglia e quindi riuscire a vivere in maniera importante e utile all'interno della nostra comunità e del nostro territorio. L'ultimo evento che volevo ricordare, che non è secondario, l'abbiamo lanciato l'anno scorso, ha avuto un importantissimo successo, è un evento per dare visibilità ai laureati del 2021 in questo caso, lo faremo nel mese di dicembre perché vogliamo dare testimonianza a coloro i quali, a quei ragazzi che si sono impegnati negli studi e che magari non sappiamo neanche poi che sono arrivati alla laurea o se sappiamo non sappiamo che tipo di laurea hanno raggiunto e che studi hanno fatto, daremo a loro la visibilità di una decina di minuti, qua è un po' da vedere se è online oppure in presenza, lo stabiliremo a breve a seconda anche di come andrà avanti la pandemia e a loro, oltre a dare visibilità nella presentazione, in dieci minuti del loro elaborato finale, la tesi, daremo anche un buono libri in modo tale che anche questo sarà di 80 euro, quindi non certo cifre importanti, ma per rendere i ragazzi vicini alla nostra comunità. Ecco, la comunità che voglio dire ha tante anime, chiaramente ci sono i giovani che ritornano dall'università e possono rimanere, quindi in vostro modo è un po' un invito e poi insomma la comunità ha una storia che si scrive insieme e ci sono figure importanti in questa storia e insomma di recente ne avete salutato a voi. Certo, io ti ringrazio della domanda perché io tenevo a ricordare una figura importante per la comunità di Pedavena, importante anche per il comune di Pedavena perché lui è stato consigliere comunale dal 1999, quindi per 22 anni. Purtroppo a metà di settembre il consigliere Maurizio Gris ci ha abbandonato, ci ha lasciato, è deceduto e con lui ha lasciato un grande vuoto, un vuoto di una persona molto impegnata nel mondo del volontariato, al di là dei 22 anni in amministrazione, insomma ricordo la sua presenza e anche l'essere in prima fila rispetto a un evento importante di Pedavena come la Pedavena Corcedaune, ma all'interno di altre associazioni come la Protezione Civile, come la Proloco di Pedavena, come la Valcolmeda, insomma tante associazioni hanno visto la sua presenza che non era una presenza solo fisica ma di una presenza di una persona che fa. Ecco, Maurizio era di poche parole ma era una persona vicina, se qualcuno aveva un problema lui si occupava da un punto di vista amministrativo diciamo dei lavori pubblici e delle piccole manutenzioni e della gestione degli operai, ecco se qualche cittadino aveva un problema chiamava lui e lui dava risposte. Ecco, di lui è vero che ci lascia un grande vuoto ma ci lascia la sua orma, ci lascia la sua impronta, ci lascia i suoi valori e il suo significato, ecco dei valori che dobbiamo appunto trasmettere anche ai nostri giovani. Ecco, ho svolto quindi un ruolo sicuramente importante in cui la conoscenza del territorio anche per questioni assolutamente pratiche è molto importante, queste situazioni pratiche spesso si affrontano in emergenza e qui entra il tema chiaramente anche della diffusa idrogeologica del territorio. Che progetti avete e cosa state per tornare a mano? Certo, è un tema importantissimo in realtà poi di tutta la provincia di Belluno, una provincia come sappiamo fragile e che ha bisogno di importanti interventi. Vaia ce l'ha insegnato e da Vaia sono arrivate anche importanti risorse da parte della Regione Veneto che ci hanno permesso di portare avanti alcune situazioni ma non dobbiamo fermarci qua perché purtroppo gli eventi meteorologici sono sempre più importanti e più imponenti. Quest'anno l'amministrazione di Pedavena ha utilizzato quasi un milione di euro delle proprie risorse per andare incontro a queste esigenze. In particolar modo abbiamo appena ultimato degli importanti lavori nella strada della Valerna, se vogliamo una strada secondaria ma comunque importante, dove l'abbiamo riqualificata nella sistemazione dei muretti che erano ovviamente franati a causa degli eventi meteorologici e anche la strada in sé che aveva dei piccoli cedimenti. Attualmente sono iniziati i lavori in un'altra strada secondaria ma importante perché poi va a raggiungere delle abitazioni e delle prime abitazioni, le prime case, come la strada di Fiere, un importante lavoro di circa 100 mila euro. Inizierà nel mese di dicembre un altro lavoro, una strada in centro che è Via Remuglia, è una strada piccola se vogliamo ma molto importante perché collega la parte est del territorio con il comune di Feltre, è chiusa dal 5 dicembre del 2020, altro importante evento meteorologico, abbiamo ottenuto finanziamento da parte della provincia di Belluno, abbiamo fatto la gara e nel mese di dicembre inizierà anche questo importante lavoro. Due altri lavori partiranno all'inizio del prossimo anno perché li dobbiamo appaltare entro il 31-12, finanziati anche questi da Vaia, in particolare sono l'intervento che verrà realizzato a Carpene dove abbiamo un importante smottamento che in occasione sia di Vaia ma anche dell'evento del 5 dicembre ha chiuso una strada che poi era frequentata anche qui da delle famiglie e poi la strada di Bianconetta dove verrà sistemati i muretti e alcune problematiche anche lì di una strada che sta in qualche parte cedendo. Per quanto riguarda il futuro invece abbiamo già redato, a breve verrà consegnato un progetto molto importante da quasi 2 milioni di euro per dei problemi che abbiamo ormai da più di 15 anni nella parte relativa a Santo Svaldo e Via Luciani per intendersi. Ecco questo importante progetto prevederà anche un bacino di laminazione, ovviamente adesso abbiamo il progetto, sarà il nostro compito trovare i fondi per poterlo realizzare e altri franni che abbiamo nel territorio come quella di Tornaul dove anche qui abbiamo chiesto i soldi alla provincia di Belluno legati all'evento meteorologico del 5 dicembre ma anche ad altre franne che abbiamo nella Vale di Faunti. Insomma l'impegno su questo tema deve esserci, deve essere e dobbiamo dare risposte tangibili perché purtroppo i cambiamenti climatici hanno portato anche a dei fenomeni meteorologici che sono sempre più imponenti e quelle che chiamano bombe d'acqua che preoccupano ovviamente me, l'amministrazione e la popolazione. Parliamo di un altro tipo di lavoro, quello alle scuole. Che cosa sta succedendo? Alle scuole nel 2020 siamo partiti in piena pandemia tra l'altro con un importante lavoro di sicurezza perché è un lavoro relativo all'antisismica per raggiungere l'obiettivo di legge dello 08 di vulnerabilità sismica così viene detto per l'istituto della scuola media che forse è quello più datato che abbiamo. Il progetto è partito, purtroppo durante il lavoro abbiamo riscontrato dei problemi legati alla parte diciamo nord del fabbricato dove dei seti che dovevano essere realizzati non potevano essere realizzati per problemi di quello che la ditta ha trovato sotto che non era quello che avevamo indicato nello studio geologico che era stato fatto e quindi abbiamo dovuto interrompere a malincuore i lavori creando ovviamente anche dei disagi di questo chiediamo scusa un po' a tutto l'istituto comprensivo quindi ai docenti, ai dirigenti, al personale ATA ma ovviamente ai ragazzi e ai genitori per riprenderli speriamo a breve perché abbiamo redato un progetto nuovo, l'abbiamo già approvato in giunta e abbiamo trovato dei fondi da parte di Aveppa e penso e mi auguro che nel mese di gennaio-febbraio possano ripartire questi importanti i lavori che mettono in sicurezza questo istituto. Tra l'altro va detto che recentemente la settimana scorsa abbiamo ricevuto la notizia da parte del Ministero dell'Interno di essere stati finanziati per un progetto di circa 500 mila euro di efficientamento energetico dello stesso istituto. Ecco è nostra intenzione adesso elaborare una progettualità che permetta oltre ad mettere in sicurezza l'istituto anche a renderla più confortevole da un punto di vista climatico attraverso una coibentazione partendo ovviamente dal tetto che inizia ad avere anche qualche problema per rendere anche appunto le classi più fruibili e più più vivibili da parte poi dei ragazzi e dei docenti. E risparmiare magari qualcosa che fa sempre bene. Ecco grazie mille grazie a voi e buona giornata quindi ci vediamo alla prossima tappa Grazie mille grazie a voi. 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 Grazie mille grazie a voi.